Il campo è... è meo, che è la testa, è la confumeria, capito facile, se è paravanti. Ah, non lo so, 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 non lo so. E' senza il tenente, per essere la operazione, siamo tranquillamente, senza senza cosa, senza un piccolo, senza senza, solo qui ho parato. Ok, già passiamo. Siamo qui, c'è un po' di marciatore, gli amici che stanno ritorando, qui si guarda in scuderia. Siamo arrivati, sono le ultime battute per la squadra. Ciao Giancangu, vi abbraccio a Gio. Ciao, ciao. Ciao. Ti spieghi un po' su. Alla via di manè. Figlia un po'. Tu stai in moto, tu porti il km ora, tramite l'ora, c'è il porto... Io hai detto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.